Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Ah ok, non si ricordava Che da meno valore il contenuto che porta una persona che parla di cose che magari fanno più ridere lo spettatore rispetto a uno che parla di argomenti più seri perché la gente ha interessi diversi magari una sera uno vuole ascoltare qualcosa che non abbia un certo spessore una sera uno vuole farsi un po' di cultura E quindi guarda Delicogito Delicogito, bravissimo Guarda Delicogito Tutti i tipi di contenuti Non trovo criticabile un content creator Allora, se si può dire, sembrerà strano Non mi crederà nessuno Ma penso che in tutta la mia vita Ok, queste cose qui Non so se si possono dire I vip, i vip, i vip Ok, i vip si può dire Me ne sarò fatte tipo 5, Massimo Ma come io me ne faccio sei in due giorni Sì E invece i porno me li sono guardati per imparare a farlo meglio Perlomeno Manuel, intanto che lei Prova a buttarla fuori che così rientra Intanto io parlo con Manuel Manuel, adesso? Lei ha detto che studia ma non è tanto Ma mi sa che ti sente Ah, ok Dio cane No No, mi hai rubato anche le parole di bocca Perché DJ Luppo ha regalato 36 abbonamenti Dio cane No, no, no No, no Dio Luppo Però grazie, volevo dirlo io Grazie DJ Luppo Ma ci siamo abbonati all'Holy Fans Allora, non voglio dirla in maniera così Ma ci siamo abbonati E poi c'era la possibilità di pagare per un bocchino Aspetta Vero? Aspetta un secondo Ma non a noi Non a noi Ma lei dava Ma io non faccio queste cose No, aspetta Sofia Nel tempo libero esco con gli amici Scondo un po' di trap come Rondo Ehm Ma io ci ho fatto serata con Anna, mi pare Vabbè Grazie Gioia di voi venire Grazie Gioia di voi venire Grazie Press Grazie Exo Grazie mille No, per soltare Porco Dio Ti sembra dell'uliveto questa? Ci legge questo? È un uiveto? C'era l'uliveto Questo è un uiveto? Ci vede il tipo che fa le conseguenze? No, ho arruinato io questo E dove sta? No, non c'era Volete una stelitica? Andate, calma Sentito? Nel mio amico che mi ha fatto bannare? Sì No, di seguirlo dicevo No, assolutamente Anzi, volevo salvare oggi Bene Perché è troppo pubblicità Vedo le dirette Mi appaiono 30 pubblicità Ce la faccio più Non so la gente che non si sabba come ce la fa Va bene, va bene Ma grazie Real Gelataio Siamo pronti per una nuova esperienza magica Il mio personaggio sarà sempre franco Sarà sempre brutto come la fame Avrà sempre voglia di uccidere più persone possibili Quindi Niente Oh, please wait for synchronization To finish line before game Ok, sta sincronizzando Grazie Jacopo, grazie Grazie mille Grazie mille Non eri mutato bro Ma chi era Non mica voleva essere mutato Ok, ready to play It's ready to play Sei di Bari? Bari Provincia di Bari, no Non sono di Bari A Barletta Andrea Trani? No Di dove sei? Taranto Ah Conosci Otranto? Oh dai, sono già più di tre meme Buonanotte Le persone più strette Cioè, con contatto più stretto a noi Ci classificano Cioè, nel senso Io penso di essere una persona di un tipo Perché mi analizzo E credo di essere di quel tipo Ma le persone ovviamente Che mi stanno vicino strette Possono analizzare più la mia personalità E delinearne insomma Un significato più magari Che abbia semanticamente Un riscontro più netto Con la realtà E quindi Indy per cui Tu Cioè, le persone che ti stanno vicino Come ti descrivono? Cioè, quali sono le parole Che usano per definire Baldi Mi sembrava un'informazione Prego, che prego Dennis È normale Occhio Sto proprio a chiamarrigio Mi hanno segnalato come è morto E Instagram Mi hanno messo morto Così qui De tutto Il lavoro che sto fanno Andato a merda Non c'è come fa Mi hanno bloccato il profilo Instagram Me l'hanno messo commemorativo Comunque a male Del mondo O dolla Lo so È del mondo La mia ex Monna, zio Ma come ti è venuto in mente? Minchia, zio Questa Questa veramente È stato bello Zio Ma che cazzo Ti salta in testa? Questa che finirà su TikTok Quindi ciao TikTok Ciao Ma zio Oh Ho ritardo l'audio Non si capisce moltissimo Oh Vero Satoshi Vero Satoshi Miau Ok Mi ha fatto molto ridere State ragazzi Tutto bene? Non ti sentiamo Simone Non ti sentiamo Simone Non è vero Ma Sono l'unico che non sente? Mi sa che sei l'unico No sei l'unico Mi dispiace Ma stavolta È colpa tua Tipo la verità Come va ragazzi? Ah Giudone Mi senti? Pronto? 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 Mi senti? Ok sento